e darei la parola a Francesca Reddavid a questo punto che penso possa darci lei è segretario lei è segretaria generale della FIOM e quindi penso che abbia tutte le caratteristiche per darci una grande mano in questa discussione sicuramente non so da che parte prenderla nel senso che non ho cioè qual è il punto di discussione e quindi dirò delle cose un po' così come mi vengono in mente non so da che parte prenderla perché naturalmente di che cosa mettere al centro di questi pochi minuti diciamo di discussione il punto di analisi quindi cioè che cosa sono questi movimenti e che qual è il rapporto con questi movimenti alcuni di questi movimenti sono assolutamente giovani hanno qualche settimana e qualche mese quindi credo che anche nel rispetto della loro storia bisognerà vedere che cosa sono questi movimenti e cosa decideranno di essere diciamo è difficile determinare che cosa sono e cosa decideranno di essere io trovo che sia una cosa veramente di una rilevanza assoluta il fatto che questi movimenti riempiano le piazze in una fase diciamo in una lunghissima fase diciamo in cui la democrazia e la partecipazione sono un elemento di rischio assoluto il fatto che sulla base di un punto di vista di un argomento di una questione prioritaria più che di un insieme di questioni più che di un programma complessivo più che di una condivisione di chissà quante cose le persone riempiono le piazze e scendano in piazza e si mobilitano io di per sé la trovo un fatto di da un punto di vista di democrazia molto a rischio in questa fase in questi lunghi anni un elemento assolutamente assolutamente determinante mi sembra più complicato diciamo dare un'identità collettiva a Friday for Future o alle sardine faccio per dire che sono rispetto non all'argomento principe su cui hanno aggregato i movimenti in modo positivo piuttosto che non su un ragionamento più complessivo su cui penso che dentro ci sia tante cose diverse non è che c'è proprio non è che c'è un partito un'identità un punto che sono tante cose sono un movimento di tante cose di tante persone che si ritrovano su quell'elemento e trovo anche che c'è un elemento soprattutto in Friday for Future ma non solo adesso generazionale molto molto forte e importante e di assoluta rilevanza perché la cosa che tu dicevi prima che diceva chi di voi lo diceva sulla precarietà esistenziale è l'elemento distintivo degli questi ultimi no che si è che è diventato concrete che è partito prima ma che si è diventato concretezza assoluta di questi ultimi vent'anni che cambia proprio il punto di vista totale delle persone sul lavoro sulla vita sulla famiglia sugli affetti sui sentimenti su qualunque cosa questo senso di precarietà totale perché la precarietà è sul lavoro cioè la precarietà è appunto esistenziale quando è su un punto ti assume tutto diciamo nelle relazioni sociali nei rapporti umani nei rapporti affettivi è un insieme ed è chiaro che il carattere di questa generazione di questi ultimi vent'anni e il distacco dalla politica di quella generazione ma non solo perché poi sono travolti anche quelli un po più grandi diciamo di questa generazione qui da questa precarietà totale e dalla politica e dei partiti non dalla politica che bisognerebbe dire che cosa è politica diciamo per ognuno di noi però dai partiti e dalla rappresentanza è evidente che c'è ed è quindi la difficoltà della sinistra in qualunque modo si articoli rispetto a questo punto di vista anche se io come dire dice io non 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 sono più scritta nessun partito dalla bolognina diciamo poi ed ero piccola quindi da allora non mi sono più scritta nulla quindi mi sento libera diciamo dai legami di partito e non mi identifico con nessun partito ma non c'è dubbio che la sinistra paga un deficit di credibilità enorme da questo punto di vista al di là delle singole persone e di chi ci ha provato e di chi ha tentato perché non c'è dubbio che si è arrivati a questa precarizzazione esistenziale totale in una condizione diciamo di debolezza totale rispetto al mettere al centro i diritti delle persone e i diritti del lavoro che secondo me non sono due cose sconnesse tra di loro che è un altro problema che ha che abbiamo tutti noi non connettere i diritti civili con i diritti sociali i diritti civili con i diritti del lavoro perché i diritti di civili sconnessi dai diritti del lavoro diventano un'altra cosa possono anche essere di classe l'esercizio di quei diritti se non sono connotati e questa cosa noi l'abbiamo perso una discussione che andrebbe fatta rispetto al senso dei diritti del lavoro perché non c'è dubbio che c'è stata questa disconnessione anche fermando io voglio ricordare un altro momento lo ricordava monica e poi anche l'ultimo intervento no global 2000 a inizio degli anni 2000 no anche quello era un movimento molto di giovani e non solo di giovani poi ha avuto la sua storia e metteva al centro un tema la globalizzazione un altro mondo è possibile perché la globalizzazione è un disastro sulla vita delle persone e così è stato quel movimento non è riuscito a diventare una cosa che pesa di per sé il movimento sono diventato però ha detto quello che sarebbe successo come adesso lo dicono frider for future faccio questo esempio perché più vicino anche alle cose il modo assoluto e così è stato diciamo no ed era una generazione che portava quell'istanza ma che non ci fosse un altro mondo è possibile la sinistra però l'aveva assunta come cosa l'aveva assunta nella pratica nella pratica l'aveva assunta e dopo l'89 noi dicevo sempre con la caduta il muro di berlino l'idea che solo un mondo è possibile lo puoi sistemare al meglio ma dentro quel mondo stai perché anche la cina è il capitalismo di stato di cui stiamo parlando è stato assunto come orizzonte da tutti e in particolare dalla sinistra radicale l'idea che il lavoro fosse finito non fosse più centrale è stato assunto è stato assunto la dis il disvalore del lavoro produttivo già il disvalore del lavoro riproduttivo è storico c'è da sempre riguarda e continua a riguardare tutti adesso non è più solo delle donne perché tutto il warfare in generale quindi quello è già svalorizzato da sempre non è mai stato valorizzato il disvalore del lavoro produttivo l'industria sta finendo l'industria c'è solo il lavoro cognitivo non è più centrale è stato assunto dalla sinistra adesso non dico da singolarmente però questa è stata la percezione e quindi mettere al centro tutta una legislazione che andava a favore dell'impresa della finanza il sostituire la politica con la finanza è stato il disastro il cui oggi ci troviamo di fronte che non è che la e anche il movimento dei lavoratori ha non è stato all'altezza di quello scontro non è che voglio dire che i partiti hanno sbagliato invece noi siamo bravi perché è chiaro che se chi rappresenti sta male tu non è che stai tanto bene cioè non è che c'è un distacco tra queste cose ma non c'è dubbio che come dire mentre il capitale la finanza globalizzava guardiamo adesso che cosa succede c'è chiudono le fabbriche per il coronavirus che cosa significa la fragilità di tutto questo e di tutto la finzione o la realtà che c'è dentro mentre tutto questo succedeva il movimento dei lavoratori non è stato all'altezza di quel conflitto non ha saputo travalicare confini nazionali per dirne una non è stata all'altezza della globalizzazione ha subito la frantumazione del lavoro all'interno di un singolo paese e in generale ha subito la precarizzazione del lavoro nell'industria in particolare parlo dell'industria perché la conosco meglio è una scelta politica delle imprese non è una scelta produttiva lavorare con gli appalti sub appalti le terziarizzazioni non serve per produrre una nave per produrre una nave servono dieci persone faccio per dire ne servono non dieci ditte se c'è una frantumazione del lavoro è una scelta politica diciamo rispetto a lasciare sole le persone che rientra appunto dentro questo schema allora io penso che chi si è trovato a viverlo diciamo ha trovato questa eredità io poi penso che non è colpo non mi sento cioè un po' mi vergoglio un po' penso che collettivamente non ce l'ho che gli altri sono stati più forti che rapporti di forza non ho saputo rovesciare rapporti di forza no però penso che c'è un tema di rapporti di forza perché non è che noi non siamo stati in grado di dopodiché io penso che quelle contraddizioni quindi cosa sono i movimenti io non lo so ma lo dico con rispetto cioè devo vedere che cosa sviluppano e cosa diventano diciamo non sono in grado di sapere alcuni soprattutto i più giovani naturalmente con tutti i tutti i movimenti penso che hanno un problema di democrazia perché poi è il tema anche della non perché non siano democratici ma che cosa significa esercitare per esempio facevi riferimento a no global io facciamo riferimento alle forme che ci si è dati ai social forum è molto complicato capire chi decide per chi e come alimenti la partecipazione e come io anche se non la penso al 100% come te o come la maggioranza posso star dentro senza cioè è una forma su cui credo che nessuno di noi ha trovato una soluzione nei partiti si vota in FIOM si vota sempre dalla fabbrica in su noi votiamo sempre è giusto o non giusto che sia perché è chiaro che chi vota siccome il 20% sono donne gli 80% sono uomini il voto degli uomini conta di più ma allo Stato noi abbiamo una testa un voto perlomeno questa regola ce l'abbiamo poi va migliorata ma questa regola qual è la forma che ci si dà è molto complicato e credo che è un tema su cui capire le interlocuzioni è un tema su cui non ho nessunissima soluzione dico solo che è un tema su cui ci si è lì l'acquisire la propria parzialità nel confronto è un altro elemento fondamentale noi abbiamo fatto un comitato centrale un po' di tempo fa in cui è venuto un esponente di Friday for Future che non solo è intervenuto ma è rimasto a tutto il dibattito alla fine del dibattito in cui si parlava di Ilva in cui si parlava di Leonardo che fa le armi in cui si parlava di... alla fine del dibattito mi ha detto scusa ma io non avevo idea che fosse così complicata la cosa perché le cose sono complicate e allora se tu dici semplicemente chiudi le fabbriche siccome come dire al sindacato ci si scrive per essere salvaguardati primo luogo dall'avere un posto di lavoro e poi nei diritti è chiaro che la discussione è chiusa prima di finire e non è quello che sta avvenendo perché c'è stato un cambio in questi anni importantissimo io vengo da due giorni di discussione a Torino sull'automotive con gli ambientalisti vari ambientalisti al Politecnico organizzato dalla FIOM e con la FIOM è chiaro che le cose stanno insieme ma se io non affronto la contraddizione al centro della contraddizione faccio finta di affrontarla, gli do un imbellettamento perché o noi pensiamo che non è più necessario produrre nulla che non c'è bisogno di acciaio per niente quindi non abbiamo frigoriferi, non abbiamo lavatrici, non abbiamo macchine, non abbiamo aeree, non abbiamo navi non abbiamo niente, non abbiamo ferrovie, non abbiamo treni, non c'è niente o se pensiamo che ci deve essere il tema è riusciamo ad influenzare come si produce che cosa si produce e come si produce piuttosto che dire, mi ha molto colpito la frase che ha detto tuo figlio perché una cosa invece che noi proviamo a dire sempre è che nel 68 si diceva il problema non è il lavoratore il problema è il padrone cioè è l'impresa che fa che fa magari cerca la massimizzazione del profitto il lavoratore subisce l'inquinamento fuori e dentro la fabbrica quindi non è che è un lavoratore che ti vuole inquinare il tema è come tu sei in grado di avere una progettualità e mettere in campo rapporti di forza e intervenire, fatemelo dire in modo un po' vetero nel luogo dove capitale e lavoro si confrontano e quindi nel luogo della produzione io devo avere un'alleanza con i cittadini con gli ambientalisti, con l'asini con quello che è per spostare e quindi dire che bisogna produrre cose diverse e in modo diverso e questa alleanza prima di produrla ci porterà a confliggere cioè a confrontarci anche in modo confliggente ma il conflitto se non è o la pensi come me oppure meglio che è l'unico elemento di crescita che noi possiamo avere nel rimettere insieme nel rimettere insieme le cose non è che ce n'è un altro modo cioè io anche penso che noi dobbiamo lavorare sulla mobilità sulla mobilità sostenibile su quello che questo significa sono anche preoccupata che l'elettrico su cui bisognerebbe fare un ragionamento a parte rispetto a che cosa significa a livello globale non solo europeo italiano a proposito di inquinamento l'elettrico nel suo ciclo complessivo e se è fatto con le energie rinnovabili oppure se è fatto con le perché di solito è fatto con le energie che derivano certo cioè noi compriamo le auto elettriche che l'elettricità è presa dalle energie fossili cioè non è che le compriamo dalle auto no per dire perché a volte bisognerebbe anche avere bisognerebbe fare un ragionamento complessivo da questo l'idrogeno è una prospettiva che ci vuole ancora un po' però bisognerebbe però siamo tutti interessati ma io sono anche interessata che voi sappiate che quindi quando si lavora si lavora insieme che passare all'elettrico che va bene bisogna farlo significa dimezzare i posti di lavoro punto dimezzare i posti di lavoro significa che il lavoro va non è che il lavoro va redistribuito che la ricchezza non deve andare solo al capitale non deve andare solo alla finanza che per far questo ci vuole un'alleanza di soggetti diciamo che si muovano in una determinata direzione altrimenti come dire è complicato e allora io credo che da questa parzialità noi dovremmo discutere le mie forme di lotta vanno bene non vanno bene come impattano io penso che questi sono ragionamenti da fare e spesso abbiamo avuto anche dei momenti di confronto io ho parlato agli ambientalisti ma devo dire per sincerità visto che sono qua anche con una di meno la FIOM ha avuto degli elementi e c'è ancora di confronto complicato abbiamo un confronto complicato perché abbiamo cercato un confronto se non cercavamo un confronto forse avevamo la vita più facile come tanti altri che questo confronto complicato non ce l'hanno questo apro e chiudo la parentesi detto questo che non voglio discutere l'ho qui oggi però sarebbe interessante discutere io ho tante compagne delegate dirigenti sindacali che sono dentro non una di meno quindi non c'è un problema rispetto a c'è un problema di riconoscimento di modalità che possono essere diverse e perché sono diverse e perché può andare bene in quella situazione io per esempio un ragionamento sul significato della parola sciopero l'abbiamo fatto anche con Frate for Future e lì è stato meno complesso ragionarci credo che sarebbe interessante farlo facciamo un'altra assemblea cosa significa la parola però lo dico perché tanto è inutile che ci nascondiamo c'è una discussione aperta che c'è per chiudere vorrei dire che anche io sono assolutamente anche la FIOM io e le compagne della FIOM ne discutevano prima che arrivassi qua è inaccettabile la situazione in cui si sta e anche dopo ieri si è stare ancora in questa condizione grazie Grazie a tutti.